Non sprecare cibo non è solo un obbligo morale, ma visti i tempi che corrono, anche un'esigenza sociale e culturale. Sociale perché le code davanti alle mense della Caritas sono sempre più lunghe e composte sempre più di persone che non sono i margini della società, ma che sono parte attiva di essa, solo che non riescono, per svariati motivi, a sostenersi adeguatamente. Culturale perché il cibo che viene sprecato o derrate alimentari che non possono più essere inserite nel circuito commerciale, ma ancora commestibili, destinate al macero, sono quintali e quintali e questo non va bene. A mettere in contatto le esigenze di queste fasce deboli della società e chi ha il cibo ci ha pensato la Caritas, che ha approntato un progetto ad hoc a riguardo. Il Vangelo ci ricorda spesso l'importanza appunto del non sprecare, basta ricordare il brano del Vangelo in cui con la moltiplicazione dei panni dei pesci, in cui vengono sì condivise e quindi moltiplicate le cose, però alla fine ciò che è in avanzo, in esubero, non è che viene gettato ma viene conservato per il futuro. Quindi l'importanza, anche Papa Francesco ci ricorda di come tutto ciò che è sulla terra è un dono e quindi va amministrato con coscienza insomma. In più appunto le famiglie sempre più povere, ovviamente tra i bisogni primari c'è quello di mangiare. È un progetto che insomma cerca di risolvere due problemi, uno ambientale, diciamo tanti beni alimentari o comunque beni di prima necessità che vengono ancora buttati per motivi puramente commerciali ma che sono ancora utilizzabili e dall'altra tante famiglie purtroppo sempre di più che invece hanno bisogno di beni essenziali. C'è necessità di tutto quindi e nulla deve essere sprecato. Un servizio che è rivolto a precise fasce di popolazione e che vuoi per la crisi economica o per altre situazioni personali sono in condizioni di grave indigenza. Sono ex operai, disoccupati, famiglie monoparentali, ragazze e madri, uomini separati, extracomunitari, si rivolgono a noi sia per una questione di alimenti, di frutta ma anche di altro perché chi viene da noi ci chiede anche avete pacco alimentare, avete qualcosa, ma anche per avere un punto di incontro, possibilità di lavoro, c'è una crisi veramente grossa. Ora rodata la macchina organizzativa su Fano si pensa di allargare il bacino di servizio di questa modalità di sostegno alle fasce deboli della società. Adesso tentiamo di capire effettivamente come si può sviluppare e in che modo aiutare veramente le necessità del territorio. Noi comunque bisogna partire sempre dai bisogni nel territorio per poter poi fare un progetto effettivamente utile.